Ciao e benvenuti in questo video andiamo a vedere 6 quiz ministeriali sbagliati ovvero che il ministero ha proprio sbagliato o che comunque sia possono essere molto interpretabili da parte nostra quindi cominciamo subito Quiz numero 1 questo che vedi è un divieto di sosta cosa vuol dire? che non posso lasciare il veicolo parcheggiato in quella zona lì se a questo cartello io ci integro quel cartello sotto che è una rimozione forzata cosa vuol dire? che se io lascio il veicolo in sosta me lo portano via ok? o lo bloccano con le ganache andiamo a vedere il quiz cosa ci dice il quiz? il segnale A ovvero il divieto di sosta attenzione se integrato col pannello B se integrato col pannello B è una condizione quindi ci sta dicendo che se io lo integro col pannello B e poi mi dice che indica una zona in cui vige il divieto di sosta ma la mia domanda è e se non fosse stato integrato cosa mi indicava il pannello A punto di domanda bene come potete aver capito è sbagliato questo quiz quindi comunque sia dobbiamo rispondere vero Quiz numero 2 allora questo qui è un senso vietato o un divieto di accesso e viene messo su una strada a senso unico come puoi vedere qui nella slide cosa capiamo? che non possiamo accedere da quella parte ma possiamo entrare dalla parte opposta dove c'è questa macchina verde quindi te lo ripeto è messo su una strada a senso unico un divieto di accesso ma non mi consente di circolare su quella strada? vieta il transito su quella strada? assolutamente no perché il divieto di transito il divieto di circolazione è questo cartello qui ritorniamo al nostro cartello allora il senso vietato il segnale è raffigurato c'è scritto non consente la circolazione dei veicoli in quella strada ed è falso questo è un quiz corretto infatti è falso dire che non consente la circolazione perché ci possiamo circolare da quella strada non possiamo accedere da quella parte ci aggiungiamo un pannello integrativo quindi cosa vuol dire? che è un divieto di accesso per tutti eccetto gli autobus escluso gli autobus quindi gli autobus possono accedere da quella parte della strada andiamo a vedere il nostro quiz il quiz cosa ci dice? che il segnale in figura permette di transitare solo agli autobus quel transitare per quanto mi riguarda non è proprio così corretto perché avevamo detto che non è un divieto di transito in quella strada ci si può transitare non si può accedere da quel lato comunque dobbiamo mettere vero quiz numero 3 questo è un pannello integrativo che il pannello A ci dice tornante il pannello B ci dice 3 tornanti cos'è un tornante? è una curva molto stretta come puoi vedere nella slide è una curva diciamo a gomito quindi a raggio chiuso andiamo a vedere il quiz allora il pannello integrativo in figura A tornante singolare indica la vicinanza di una o più curve strette ma l'A mi dice tornante singolare perché hanno messo una o più curve qui sarebbe stato corretto levare più curve strette comunque dobbiamo mettere vero lo stesso vale per il pannello integrativo in figura B indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose come potete vedere il cartello B c'è scritto 3 tornanti e è plurale e quindi anche qui avrai tolto in questo caso la vicinanza di una curva quindi non è una curva ma direttamente la vicinanza di più curve particolarmente pericolose comunque anche qui dobbiamo mettere vero quindi cercate di ricordarvi che con questo pannello integrativo non dobbiamo dare peso al singolare e al plurale quiz numero 4 questo cartello cosa vediamo? vediamo un preavviso di svolta obbligatoria per autocarri superiori alle 3,5 tonnellate ma gli autocarri cosa sono? sono camion, veicoli che trasportano merci quindi se guido un camion se dovessi guidare un camion superiore alle 3,5 tonnellate più avanti sarò obbligato a svoltare a destra ricordatevi che queste frecce storte sono sempre preavvisi quindi non vengono messe lì sull'incrocio ma un pochino prima quindi questo camion non è obbligato subito a svoltare a destra più avanti lo sarà d'accordo? andiamo a vedere il quiz il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri oltre alle 3,5 tonnellate devono svoltare nella direzione della freccia ed è vero infatti c'è scritto preannuncia annuncia prima quindi qui niente di strano vediamo quest'altro invece il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate di proseguire diritto e il quiz hanno messo vero io qui avrei messo vieterà perché vieta sembra subito è un presente ok? quindi non è vero che vieta ma vieterà più avanti di proseguire diritto quindi questo quiz secondo me è molto interpretabile quiz numero 5 questo che vedete è un incrocio ministeriale come ben sapete il tram lo fanno passare sempre per prima perché il tram ha sempre la precedenza sia dai veicoli che vengono da destra e da sinistra infatti loro cosa hanno fatto? come potete vedere qui nel video hanno fatto passare prima il tram e ora come potete notare il veicolo A alla destra libera ma anche il veicolo L alla destra libera tanto è vero che li fanno passare contemporaneamente e voi direte ma non c'è niente di strano qualcosa di strano c'è andiamola a vedere allora in una situazione normale in città per esempio con i tram in questo caso il veicolo A alla destra libera e quindi sarebbero potuti transitare contemporaneamente il tram e il veicolo A ora lasciate perdere che qui magari c'è poco spazio non dobbiamo guardare le proporzioni del disegno perché se andate a vedere i quiz sul vigile hanno fatto un vigile grande come una casa e un incrocio piccolo così allora cosa diciamo? non ci passano i veicoli quindi non c'entrano niente le proporzioni del disegno di per sé quindi qui sarebbe stato più corretto far passare contemporaneamente il veicolo tram e il veicolo A insieme comunque come vedete nel quiz cosa hanno messo? nell'incrocio rappresentato nella figura dei veicoli passano nel seguente ordine T, L ed A quindi L ed A contemporaneamente e infine C quindi dobbiamo mettere vero quiz numero 6 come vedete in questo quiz c'è scritto la frequenza di apposito corso il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 6 punti arrivando a un massimo di 20 allora diciamo che è vero che in un corso di recupero punti si recuperano 6 punti e possiamo arrivare comunque a un massimo di 20 con questo recupero punti però è falso dire che ci deve essere un esame specifico come c'è scritto qui nel quiz infatti lo rileggiamo la frequenza di apposito corso il superamento di uno specifico esame sarebbe falso perché dopo che hai fatto il corso di recupero punti non devi fare alcun esame comunque dobbiamo mettere vero bene il video termina qua condividete pure e fatemi sapere la vostra nei commenti vi saluto un grande abbraccio Autoscuola Xenon ciao